Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo nuovo video di The Last of Us vi spiegherò come aprire la cassaforte che trovate nella farmacia Westons. La combinazione in parte è scritta qui, 3855, ma manca un numero. Se esplorate la cassa, quindi entrate, vi girate e raccogliete un documento che è qui, che adesso vi mostro, avrete anche la combinazione. Quindi la combinazione in questo caso è 385523. Ora, la cassaforte dove si trova, subito dopo, quindi entrate qui, vi abbassate e qui c'è la cassaforte. Quindi digitiamo il codice che abbiamo trovato, 38, 38, inserisci, 55, inserisci, 23, 23. E la cassaforte è aperta.